Cominciamo una nuova settimana. Cominciamo una nuova settimana. Lo facciamo come sempre aprendo la nostra finestra dedicata al sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie con l'immagine che vediamo inquadrata nel led wall in questa mattinata, calda mattinata di inizio luglio quando sono le 10 e 32 minuti. Dunque quest'oggi vi accompagneremo come sempre verso la celebrazione eucaristica delle 11 e 30 che sarà celebrata nella chiesa di San Pio da Pietrelcina. Ma prima di partire con i nostri contributi, con la nostra consueta offerta di riflessioni, testimonianze, approfondimenti, vogliamo ricordare quelli che sono i contatti attraverso cui potete entrare, potremmo dire, nel mondo di Padre Pio TV. Ovviamente il canale è il 145 dal quale trasmettiamo ogni giorno in tutta Italia e in tutto il mondo. Ecco attraverso la potenza di internet e la potenza dei social si diffonde il messaggio di San Pio da Pietrelcina cominciando dalla pagina Facebook Padre Pio TV, la pagina Instagram, il canale YouTube, la pagina Twitter e per finire il nostro sito internet www.padrepio.tv attraverso cui potete scoprire tutta la nostra programmazione. Vogliamo ricordare anche il nostro numero di telefono WhatsApp come sempre 331 737 8033, lo state vedendo in sovraimpressione, potete inviarci fotografie, video del luogo dal quale ci state seguendo in questa calda mattinata di inizio luglio, come dicevamo all'inizio. Partiamo allora come ogni giorno con la pagina di storia curata da Maria Pia Picciafuoco, Un giorno una storia. 4 luglio 1776, dichiarazione di indipendenza. Il secondo congresso continentale dei 13 Stati Uniti d'America, organo collegiale dei rappresentanti delle colonie, adotta la dichiarazione con cui sancisce il distacco dalla madrepatria inglese. A occuparsi della stesura, la commissione dei cinque, composta da Thomas Jefferson, futuro terzo presidente degli Stati Uniti, John Adams, futuro secondo presidente, Benjamin Franklin, futuro ambasciatore americano in Francia, Robert Livingston, futuro primo cancelliere dello Stato di New York, e Roger Sherman, futuro senatore. L'introduzione è scritta in un linguaggio curato e nitido. È una lunga frase dichiarativa in cui gli Stati Uniti vengono fondati in termini di relazioni con le altre società nel corso della storia. Affermando che è giunto il momento per le colonie di dichiarare l'indipendenza, non trascura l'importanza di spiegare questo cambiamento al mondo. L'abile uso delle parole, creato da Jefferson, ha reso la stesura della dichiarazione molto efficace. La lotta tra l'Inghilterra e le colonie resta sullo sfondo. L'idea di una forma di governo in cui le persone scelgono come essere governate è invece nuova e rivoluzionaria. Nella dichiarazione ci sono anche tre riferimenti a Dio, ognuno diverso dall'altro. Dio della natura, creatore e divina provvidenza. E dunque auguri allora a tutti i cittadini statunitensi in quello che loro chiamano l'Independence Day. A noi ricorda ovviamente un po' un film di qualche anno fa altrettanto bello, ma oggi negli Stati Uniti è davvero davvero festa grande. Dunque ci associamo agli auguri grazie a questa bella pagina di storia che Maria Pia Picciafuoco ci ha voluto offrire. Continuiamo dunque il nostro tempo d'estate con il coraggio di ogni giorno. Ci stiamo avvicinando ad un'altra data simbolica, quella del 19 luglio in cui ricorrerà il trentesimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Poche settimane fa abbiamo ricordato quella di Via Capaci il 23 maggio, nel corso della quale morirono il giudice Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. Ebbene in quell'asso di tempo che c'è stato tra questi due eventi davvero è stata potremmo dire riscritta la storia dell'Italia, la storia contemporanea. E allora attraverso la rubrica di Felice Piemontese, il coraggio di ogni giorno, vogliamo riscoprire quelle che sono le lotte che tanti personaggi d'Italia in questo momento stanno compiendo contro la mafia. Vediamo insieme. Perché una società va da bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia. Perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Grazie, ben trovati e grazie di essere ancora con noi con queste pillole del coraggio di ogni giorno. Coraggio anche degli studenti universitari e gli studenti che portano avanti sulle proprie gambe le idee di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono contento di avere con noi in collegamento da Roma Antonio Lodise, studente dell'Università Sapienza e rappresentante dell'Associazione Sapienza e Movimento. Grazie Antonio per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato, grazie a te, grazie a te per avermi accolto nel tuo spazio. Antonio, in realtà il cammino dell'Associazione Sapienza e Movimento parte da molto lontano, parte ormai da quasi quattro anni fa con l'adesione al progetto, un progetto della Fondazione Falcone, il progetto di Università per la Legalità. Perché c'è stato bisogno anche da parte degli studenti universitari di fare qualcosa di più concreto per ricordare il sacrificio di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, gli agenti della scorta? E qual è l'attività che poi avete portato avanti in questi anni? La risposta più banale che mi viene in mente è quella di dire perché il sacrificio non fosse vano, nel senso che a 30 anni dalla scomparsa di Falcone, ci si rende proprio di Borsellino, di Falcone, si si rende conto che la maggior parte delle persone con cui stiamo andando a parlare non era nata e chi come me era nato aveva un anno. Quindi occorre trovare nuovi strumenti, nuovi metodi comunicativi che avvicinino le nuove generazioni alle tematiche di contrasto alle mafie, mafie che purtroppo bisogna prendere atto del fatto che evolvono molto velocemente, mentre il modo di contrastarle, il racconto, la narrazione della fenomenologia mafiosa non evolve velocemente. Quindi il contributo che l'università e gli studenti universitari possono dare è quello di spendere il proprio entusiasmo, il proprio essere giovane, il proprio modo di dire le cose per condividere alcuni valori, alcuni principi, alcune storie con i propri colleghi. Noi abbiamo voluto come Università Sapienza, come studenti dell'Università Sapienza, come Sapienza in Movimento, prendere parte a questo progetto perché era fresco, era inedito, non era un progetto che si basava né sulla paura che purtroppo, lo ripeto, non si percepisce più come si poteva percepire nell'epoca delle stragi, né sulla retorica. Era un progetto che permetteva a chiunque di esprimersi e di raccontare la propria esperienza. Quando noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, Roma era interessata pienamente nelle cronache dei fatti di mafia, è stata per tutti una sorpresa scoprire poi che Roma e in generale, da Roma in su, si potesse avere a che fare con le mafie, che le mafie fossero così forti nel panorama politico, economico, sociale dei territori e secondo me gli studenti universitari, ancora prima di altri, hanno il dovere di affrontare alcuni temi perché chi è universitario ha il privilegio di poter accedere a un mondo culturale, a uno sguardo diverso che molti altri, per mille motivi, non si possono permettere. E quindi quando si ha questo privilegio, si ha poi il dovere di condividere quello che si apprende, si ha poi il dovere di comunicare con gli altri. Antonio, tra l'altro, l'abbiamo visto sia nelle immagini, in Sapienza avete anche piantato un albero su un po' rappresentante, ricordando quello che è il famoso albero Falcone di Palermo, dal 2018, è presente anche a Roma dal 2019. Nel 2018 l'Università Sapienza ha accolto anche il progetto Università per la Legalità con tutte le università d'Italia presenti lì in Sapienza. E quest'anno avete anche avuto varie attività, tra cui un incontro con Tina Montinaru. Qual è il compito che soprattutto i giovani universitari, tu sei stato anche rappresentante negli organi di governo dell'Università Sapienza, nel Consiglio di Amministrazione, qual è il ruolo che un giovane universitario, un rappresentante degli studenti, può svolgere all'interno di quelli che sono poi organi di governo veri e propri dell'Università, per far sì che le idee, i valori di Giovanni e Paolo possano proseguire sulle gambe di altri uomini. Felice, noi ce lo siamo detto tante volte quando siamo incontrati, per me prima di tutto l'onestà non è un valore aggiunto, è un presupposto. Il contrasto a tutte le fenomenologie mafiosi, a tutte quelle che sono i fenomeni di illegalità, è un presupposto fondamentale per chi sceglie di fare politica a qualsiasi livello. In Sapienza, come dicevi tu, c'è un albero, ci sono due alberi in realtà, una cero rossa e una quercia, ci sono dei murales, c'è un percorso di 11 targhe che ricorda alcune delle vittime di mafie, per lo più civili è impastato, ci sono varie figure, Falcone, Borsellino, Rita Atria, ci sono diversi momenti, diversi luoghi in cui fisicamente si possono vedere alcune cose, si possono vedere dei volti, si può vedere un albero, si può vedere una targa, perché il ruolo, l'ho detto pure prima, degli studenti universitari è quello di essere testimoni dell'impegno e di essere portavoci di chi ha speso la propria vita, di chi ha perso la propria vita, spesso in maniera involontaria, perché sono fermamente convinto che chiunque sceglie di contrastare le mafie o di impegnarsi a fuori della legalità non aspetta la morte, cioè nel senso non lo fa con la volontà di diventare un martire. Etina Montinari ce l'ha confermato di suo marito, qualsiasi parente delle vittime ce l'ha sempre confermato, è meglio vivere, ecco, è meglio poterlo raccontare in prima persona, quando qualcuno non ha più la possibilità di farlo, c'è bisogno di altri che raccontino la propria storia, se la trasmettano e se la tramandino, con, lo sottolineo, linguaggi che siano contemporanei, i valori, i contenuti, i principi sono quelli gli stessi, la forma e il modo le parole che rivestono cambiano e noi dobbiamo essere lucidi e saper cambiare con i tempi. Grazie Antonio per essere stato con noi e grazie per questa tua preziosa testimonianza. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare. Voglio ricordare, grazie all'ausilio della regia, il nostro anche numero di telefono WhatsApp 331-737-8033, potete inviarci le vostre fotografie dai luoghi dai quali ci state seguendo, saremo ben lieti di condividerle con tutti i nostri telespettatori. Lo facciamo anche perché subito prima di questa rubrica che sto per lanciare è bello poter aprire una finestra con coloro i quali ci stanno seguendo perché la rubrica Un giorno un fiore è anche un modo per condividere quello che magari si ha sul proprio balcone, nel proprio giardino oppure semplicemente guardando una pianta che stiamo osservando e che ci suscita curiosità e ci stimola delle emozioni. E allora Un giorno un fiore attraverso le immagini di Luigi Martino e gli amici di Garden Foggia vuole rispondere un po' anche a questa esigenza. Vediamo insieme allora la rubrica. Alcune piante hanno alcuni periodi di fioritura ben definiti, chi in primavera, chi in estate, chi in inverno, chi in autunno. Ci sono alcuni esemplari ad esempio come quelli delle piante di rose che fioriscono nel mese di maggio, il mese mariano, il mese della Madonna e il mese in cui la primavera è nella sua massima esplosione. Oggi nel nostro appuntamento Un giorno un fiore vi voglio parlare ancora della rosa. Ancora perché ci siamo visti tempo fa parlando e apprezzando il suo fiore in ogni suo aspetto. Ma oggi lo voglio riproporre come quella pianta da tenere sempre sul balcone, sul terrazzo, in giardino. Perché? Dopo la germinazione del periodo freddo la fioritura si ha a maggio, in primavera. Ma questo non vuol dire che finisce lì. Infatti la rosa, un po' come altre piante o altri esemplari, ha una doppia o tripla fioritura, quindi ha ondate, ha una ciclicità, che ci permette soprattutto di apprezzare questo fiore quasi tutto l'anno. Adesso siamo quasi a fine giugno. Stanno risbocciando alcune parti di questi esemplari. Infatti dopo la prima fioritura la rosa va potata, va alleggerita, sfoltita, per permettergli di avere la forza di tirar fuori la seconda ondata di fioriture, quindi di avere altri boccioli. In questo periodo caldo è una pianta che resiste, perché la pianta di rosa in genere, gli esemplari primordiali di questa specie, sono esemplari che nascono in condizioni un po' critiche, che in genere crescono in montagna, quindi il vento, il sole, la poca acqua, la molta acqua, sono elementi che non la disturbano. Non la disturbano anche perché ha un aspetto molto resistente, infatti le ramificazioni poi le gnificano e quindi si ricoprono di questa veste la corteccia, che gli permette di resistere a tante situazioni. Nella seconda fioritura abbiamo la presenza di questi fiori che rispetto alla primavera hanno sicuramente un'intensità di profumo maggiore, ma una dimensione leggermente ridotta, infatti il caldo a volte alle piante le destabilizza, quindi fioriscono ma a volte o di meno o con fiore più piccoli. Questo come possiamo evitarlo in genere con le piante di rose o in genere con le piante? Con il concime. Il concime, dato a cadenza settimanale, favorisce la fortificazione degli esemplari. Se io sono più forte o ho il giusto nutrimento, riesco a sopportare periodi difficili nel migliore dei modi. Quindi nel caso delle rose abbiamo concimi specifici, ma anche un concime universale di qualità va benissimo. L'importante è a cadenza settimanale. Un altro fattore importante per questi periodi è un giusto trattamento di un insetticida che può prevenire la pianta da attacchi di insetti, malattie. E un altro fattore importante è l'acqua che non deve mai mancare. L'esemplare di rosa deve essere una cosa che non può non mancare. Deve essere sempre presente sui nostri balconi perché la bellezza ci riporta a situazioni di estrema complicità sia con l'essere spirituale che con la nostra persona. E allora, viva le rose del nostro giardino, dei nostri balconi. Ricordiamo allora il numero di telefono WhatsApp. Magari anche voi avete una foto della vostra rosa sul vostro balcone, nel vostro giardino. Noi saremo lieti di condividerla, 331-737-8033. Grazie agli amici di Garden Foggia e a Luigi Martino per le immagini e il montaggio. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora con uno spazio informativo. Riprendiamo il nostro tempo d'estate quando sono le 11 in punto, in questo lunedì 4 luglio 2022. Dunque, come promesso, passo la parola a Paola per un breve spazio informativo con le notizie dall'Italia e dal mondo. A te Paola. Grazie Leonardo. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalla notizia di Punta, ahimè, della giornata di oggi. Riguarda la tragedia sulla Marmolada, nei pressi di Punta Rocca, il costone di ghiaccio che si è staccato dalle montagne e proseguono ancora in queste ore e anche nel corso di tutta la notte le attività dei soccorritori. Si cercano ancora 17 dispersi. Il bilancio provvisorio ad oggi, a quest'ora, ecco meglio, è di sei morti, otto feriti e una ventina di dispersi. Nei sopralluoghi è stato impegnato il personale della protezione civile trentina, appunto siamo in Trentino Alto Adige, con il supporto del soccorso alpino e dei droni dei vigili del fuoco dotati di termocamere, cioè in grado di individuare anche al buio la fonte di calore emessa da una persona. Al momento però non ci sono altri aggiornamenti sull'esito dei sopralluoghi. Intanto a Canazzei sono arrivati due gruppi di parenti di vittime e dispersi, che attualmente risultano essere 17, e al momento sono sei le vittime confermate, tre italiani e un cieco slovacco, più un uomo ed una donna non ancora identificati, ma il bilancio è verosimilmente destinato ad aggravarsi. Tra gli italiani identificati, uno originario della provincia di Vicenza, l'altro della provincia di Treviso, entrambi guide alpine. Anche una terza persona identificata sarebbe Veneta. Sono invece otto i feriti, di cui in gravi condizioni tra i feriti ci sono anche due cittadini tedeschi. E in mattinata nella cittadina arriverà il presidente del Consiglio Mario Draghi, che farà il punto della situazione insieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio. E intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per esprimere cordoglio e vicinanza per la tragedia. Le condizioni, è importante anche questo particolare, le condizioni meteorologiche saranno determinanti per valutare l'intervento diretto dei soccorritori. Il freddo e le basse temperature sono fondamentali per garantire un minimo di sicurezza alle operazioni, visto che sulla montagna è rimasto un'enorme quantità di ghiaccio pericolante. Quindi si valuterà se procedere o meno. La valanga sulla marmolata è un disastro inimmaginabile. Una carneficina, tale che sono difficilmente, ci permetterà di identificare con esattezza l'identità delle vittime, perché i corpi sono stati smembrati dalla colata di ghiaccio e sassi, quanto apprende l'ansa dagli inquirenti. Il distacco, secondo le prime informazioni, del soccorso alpino si sarebbe verificato proprio nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Quindi, naturalmente, controlliamo se ci sono altri aggiornamenti in tempo reale su questa tragedia che davvero ha colpito il nostro Paese. E allora, cambiamo argomento, andiamo ora sul Corriere della Sera, nel settore economia, che riguarda le vacanze cancellate per diversi italiani, quasi 7 milioni. Ecco, questo è il titolo della notizia, con una foto del terminal dell'aeroporto di Fiumicino. E allora, lasciamo questa notizia, vediamo se questo è il bello della tecnologia che a volte ci semplifica la vita, altre volte invece ce la complica. Passiamo subito, lasciamo il Corriere della Sera, passiamo subito al sole24ore.com, perché un'altra situazione calda, è il caso di dire, è la siccità nel nostro Paese e ci sono le indicazioni della Società Italiana di Medicina Ambientale per ridurre gli sprechi. Ecco le otto mosse da mettere in atto. Infatti, in questi giorni di siccità, caratterizzati da temperature elevate in tutto il Paese, uno studio pubblicato dalla Sima, che è la Società Italiana di Medicina Ambientale, pone l'accento su una brutta abitudine che hanno gli italiani, ma non solo, che è appunto lo spreco d'acqua. Proprio mentre numerose città a partire da Verona impongono limiti all'uso dell'acqua potabile attraverso ordinanze, alcune regioni chiedono lo stato di emergenza. Allora, per affrontare l'emergenza idrica, occorre partire dalle abitudini quotidiane dei cittadini. E come sottolinea Alessandro Miani, presidente Sima, l'Italia è il Paese dalle grandi risorse idriche, ma ha anche tre primi al mondo per spreco d'acqua. Il consumo pro capite quotidiano è di circa 245 litri. Basti pensare che il rubinetto del bagno ha una portata media di oltre 10 litri d'acqua al minuto. Se lo lasciamo aperto mentre ci laviamo i denti, più di 30 litri di acqua potabile andranno sprecati, per non parlare poi del rubinetto che gocciola. E allora, sono davvero pochi gli accorgimenti da adottare in casa per limitare gli sprechi d'acqua, fino al 50%, pensate. Con effetti positivi sui consumi e sulla spesa idrica, e quindi la società italiana suggerisce otto mosse per ottenere questo obiettivo. Vediamo quali sono. Preferire la doccia alla vasca da bagno, quindi accorciare la durata e chiudere il rubinetto mentre ci insaponiamo. usare rubinetterie dotate di rompigetto, utilizzare elettrodomestici ad alta efficienza energetica e azionarli solo a massimo carico. Naturalmente non lasciare scorrere l'acqua mentre ci si lava i denti, il viso si fa la barba. Per il WC prediligere sciacquoni dotati di doppio pulsante, assicurarsi che l'acqua del serbatoio del WC non perda continuamente nella tazza. e poi prestare attenzione alla bolletta dell'acqua. Un incremento imprevisto dei consumi potrebbe indicare una perdita, quindi controllare il contatore dell'acqua. Importanti appunto queste otto mosse per ridurre gli sprechi di oltre il 50% in questo periodo di siccità. E concludiamo con una notizia presa dall'ANSA, una notizia dell'ANSA Emilia Romagna, molto interessante che in qualche modo fa anche, lascia un po' riflettere, e di qualche giorno fa la notizia del titolare di un bar a Bologna che ha offerto 1.300 euro mensili alla ricerca appunto di un barman, 1.300 euro mensili netti per sei ore di lavoro al giorno, ma nessuno si è presentato a risposto all'appello e quindi il bar è chiuso. Infatti questa è la scritta, il cartello apparso in questi giorni fuori dal chiosco del Caffè Terzi, in piazza Aldovandi, in centro a Bologna. Chiuso per mancanza di personale, ma se sei barista e vuoi lavorare, chiama così potremmo riaprire. Quindi i titolari, come ha riportato anche l'edizione locale di Repubblica, da tempo stanno cercando personale, ma nonostante venga offerto un lavoro da circa 1.300 euro al mese per 40 ore alla settimana, non hanno avuto risposte. Così hanno dovuto chiudere ormai da un mese per poter tenere aperto un altro bar gestito sempre in centro, in via Oberda. Personale non se ne trova, fa sapere il titolare, Elena Terzi, non rispondono nemmeno all'annuncio. Da quando è apparso il cartello abbiamo avuto solo una richiesta di appuntamento di una persona che poi addirittura non si è presentata. E poi ha concluso dicendo noi offriamo un'assunzione regolare come barista di quinto livello con contratto collettivo nazionale di lavoro e capita anche alcune volte che persone con la disoccupazione e il reddito di cittadinanza chiedano di poter lavorare 5-6 ore alla settimana in nero per arrotondare, alla settimana non al giorno. E poi la difficoltà nel trovare personale fa sapere il segretario generale della Filcams CGL dell'Emilia Romagna non diciamo che sia vera a prescindere diciamo però che non è legata al tema come sostiene qualcuno che le persone non rinunciano al reddito di cittadinanza. Inoltre dopo la pandemia molti si sono accorti che ci sono esigenze diverse persone lasciano condimissioni volontari fanno altre scelte di vita. Poi vedremo nei prossimi giorni se questo bar storico di Bologna in piazza Aldovrandi troverà o meno il suo barista pronto a voler lavorare. Controlliamo se ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda quello che è successo sulla marmolata la notizia con la quale abbiamo aperto anche la rassegna stampa di oggi questo seracco di ghiaccio che si è staccato e ha purtroppo travolto alpinisti, persone italiane e straniere la Col di Retti dice il clima che sconvolge la montagna Belluno record di surriscaldamento infatti Belluno è la città italiana più colpita dal surriscaldamento con un aumento di due gradi che causa gli sconvolgimenti ambientali con lo scioglimento dei ghiacciai così si è espressa la Col di Retti. E allora bene non ci sono altre notizie di nuovo linea a Leonardo Fania per proseguire il tempo d'estate di oggi. Grazie, grazie Paola. Abbiamo ancora qualche istante prima della pubblicità per ricordare che ieri in San Pietro Papa Francesco ha voluto celebrare insieme ai fedeli del Congo e del Sud Sudan per via del mancato viaggio apostolico che si sarebbe dovuto tenere dal 2 al 7 luglio prossimo posticipato a data da destinarsi per purtroppo i noti impedimenti del Papa a causa della gonalgia. Papa Francesco lo aveva promesso il 13 giugno scorso aveva detto porteremo Kinshasa a San Pietro e lì celebreremo con tutti i congolesi romani che sono tanti. Ebbene il Papa ha voluto mantenere la promessa però prima di ascoltare ciò che ha detto nell'Omelia della celebrazione eucaristica il Papa ha voluto inviare un messaggio a questi due popoli per manifestare la propria vicinanza spirituale e fisica anche attraverso poi la presenza del Segretario di Stato che ha percorso lo stesso tragitto che avrebbe dovuto percorrere Francesco quale segno di vicinanza e che ora si trova appunto in Sud Sudan. Non lasciatevi rubare la speranza le vostre lacrime e preghiere non sono inutili perché Dio ha per voi progetti di pace e non di sventura. La vostra grande missione è voltare pagina per aprire strade nuove di riconciliazione, di perdono di serena convivenza e di sviluppo per voi e per i vostri giovani. Doveva essere un pellegrinaggio di pace e di riconciliazione e tale è stato nei termini in cui il Papa ha parlato ieri nell'Omelia, ce lo dobbiamo dire perché il Papa ha voluto ricordare questa tragica vicenda che ha nel suo cuore fin dall'inizio del suo pontificato. Dal 13 marzo 2013 Papa Francesco davvero non ha fatto altro che ripetere che il viaggio in Sud Sudan sarebbe stato uno dei punti fermi del suo pontificato. Ora speriamo che il dolore al ginocchio del Papa possa calmarsi il prima possibile per riprendere questo pellegrinaggio che è davvero molto molto importante. Francesco ha detto che vi porto specialmente in queste settimane rivolgendosi alle popolazioni del Congo e del Sud Sudan vi porto nel cuore più che mai e porta dentro di sé nella preghiera le sofferenze che provate da tanto troppo tempo. Siete molto preziosi per Dio i giovani di quei paesi meritano giorni di pace vanno deposte le armi sognano e meritano di vedere realizzati questi sogni ha detto il Papa rivolgendosi ai giovani di vedere giorni di pace per loro in particolare appunto occorre deporre le armi superare i rancori scrivere pagine nuove di fraternità. E allora noi ora ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo prima di introdurci alla preghiera della celebrazione eucaristica ascolteremo le parole di Papa Francesco Ultima parte di tempo d'estate dunque stavamo parlando prima della sosta del viaggio che Papa Francesco avrebbe dovuto tenere in questi giorni in Africa nello specifico nel Congo e nel Sud Sudan il Papa il 13 giugno scorso aveva promesso ai fedeli congolesi che avrebbe portato Kinshasa quindi il luogo in cui sarebbe stato in questi giorni appunto a San Pietro per celebrare con tutti i congolesi presenti a Roma e così è stato ieri il Papa ha dettato l'omelia nel corso della celebrazione eucaristica che si è tenuta nella Basilica di San Pietro un'omenia molto bella molto profonda molto illuminata in cui il Papa ha voluto anche parlare del dono della pace delle missioni e delle testimonianze ascoltiamo insieme allora uno stralcio della riflessione di Papa Francesco da cristiani non possiamo accontentarci di vivacchiare nella mediocrità e questa è una malattia a tanti cristiani anche tutti noi abbiamo il pericolo di vivacchiare nella mediocrità facendo i conti con le nostre opportunità e convenzienze vivendo alla giornata no siamo missionari di Gesù tutti siamo missionari di Gesù ma tu puoi dire io non so come si fa non sono capace il Vangelo ci stupisce ancora mostrandoci il Signore che invia i discepoli senza aspettare che siano pronti e ben allenati non erano con lui da molto tempo questi eppure li manda non avevano fatto studi di teologia eppure li manda e anche il modo in cui li invia è pieno di sorprese cogliamo dunque tre sorprese tre cose che ci stupiscono tre sorprese missionarie che Gesù riserva ai discepoli e riserva a ciascuno di noi se noi lo ascoltiamo prima sorpresa l'equipaggiamento per affrontare una missione in luoghi sconosciuti occorre prendere con sé diverse cose certamente quelle essenziali Gesù invece non dice che cosa prendere ma che cosa non prendere non portate borsa né sacca né sandali praticamente nulla nessun bagaglio nessuna sicurezza nessun aiuto spesso pensiamo che le nostre iniziative ecclesiali non funzionino a dovere perché ci mancano strutture ci mancano soldi ci mancano mezzi questo non è vero la smentita viene da Gesù stesso fratelli sorelle non confidiamo nelle ricchezze e non temiamo le nostre povertà materiale e umane più siamo liberi e semplici piccoli e umili più lo Spirito Santo guida la missione e ci fa protagonisti delle sue maraviglie lasciare posto allo Spirito Santo lasciare spazio per Cristo e l'equipasciamento fondamentale è un altro il fratello curioso questo l'inviò a due a due dice il Vangelo non da soli non per conto proprio sempre con il fratello accanto mai senza il fratello perché non c'è missione senza comunione non c'è annuncio che funzioni senza prendersi cura degli altri allora possiamo chiederci io cristiano penso più a quello che mi manca per vivere bene o penso ad avvicinarmi ai fratelli a prendermi cura di loro equipaggiamento messaggio e stile quindi devono dire a tutti i cristiani come vivere come costruire un mondo un mondo di pace perché Papa Francesco ha detto la riconciliazione è possibile ed deve essere superato ogni sentimento di astio ogni sentimento di vendetta deve essere superata la tentazione che la riconciliazione non sia possibile ogni attaccamento malsano al proprio gruppo che porta a disprezzare gli altri abbiamo visto anche nel corso della stagione televisiva che si è chiusa poche settimane fa qui su Padre Pio TV di come il mondo delle missioni sia un mondo davvero in fermento perché c'è voglia di portare Gesù in tutti i luoghi del mondo lo abbiamo visto attraverso nello specifico l'esperienza dei frati minori cappuccini che nella Repubblica del Chad davvero fanno tanto hanno fatto tanto e faranno tanto per questa popolazione che davvero essendo agli ultimi posti per quanto riguarda le graduatorie economiche del mondo ecco ha davvero bisogno non solo di un aiuto materiale ma anche soprattutto spirituale e allora Papa Francesco proprio a questo si è appellato a questo aiuto che deve arrivare dal mondo della missione lo ha fatto ieri continuiamo ad ascoltare fratello sorella la pace comincia da noi comincia da me da te da te da te da te di ognuno di noi dal cuore di ciascuno di noi se vive la sua pace Gesù arriva in tua famiglia la tua società cambiano cambiano se per prima cosa il tuo cuore non è in guerra non è armato di risentimento è di rabbia non è diviso non è doppio non è falso mettere pace e ordine nel proprio cuore disinescare l'abilità spegnere l'odio e il rancore e fuggire la corruzione fuggire l'imbroglie e le furberie ecco da dove inizia la pace sempre vorremmo incontrare persone miti buone pacifiche a cominciare dai nostri parenti e vicini ma Gesù dice porta tu la pace alla tua casa comincia tu a onorare tua moglie ad amarla col cuore a rispettare e prenderti cura dei figli degli anziani dei vicini fratello e sorella per favore vivi in pace accendi la pace e la pace dimorerà nella tua casa nella tua chiesa nel tuo paese dopo il saluto di pace tutto il resto del messaggio affidato ai discepoli si riduce alle poche parole in cui abbiamo incominciato e che Gesù repite due volte è vicino a voi il regno di Dio il regno di Dio è vicino annunciare la vicinanza di Dio che è il suo stile lo stile di Dio è chiaro vicinanza compassione e tenerezza questo è lo stile di Dio annunciare la vicinanza di Dio ecco l'essenziale la speranza e la conversione vengono da qui dal credere che Dio è vicino e veglia su di noi il padre di tutti noi che ci vuole tutti fratelli e sorelle se noi viviamo sotto questo sguardo il mondo non sarà più un campo di battaglia ma un giardino di pace la storia non sarà corsa per arrivare primi ma un pellegrinaggio comune tutto ciò ricordiamolo bene non richiede grandi discorsi ma poche parole e tanta testimonianza allora possiamo chiederci chi mi incontra vede in me un testimone della pace e della vicinanza di Dio oppure una persona agitata arrabbiata insofferente bellicosa io faccio vedere Gesù o io lo nascondo in questi atteggiamenti bellicosi di Dio di Dio di Dio Grazie.